La prevenzione ha un ruolo importantissimo, proprio perché il diabete e l'ipertensione fanno da padrone in questo tipo di patologia, sono gli attori principali, e riuscire a intervenire controllando con un buon controllo del diabete e dell'ipertensione significa rallentare notevolmente la progressione del danno renale. In taluni casi, se prese in tempo veramente questi tipi di patologie e anche altri tipi di patologie come le glomerulonefriti, esiste oggi un mondo veramente, una farmacologia che ci può aiutare anche in patologie che un tempo non riuscivamo a controllare, oggi te controlliamo molto bene, se prese in tempo possiamo veramente rallentare la progressione del danno renale. L'ospedale civico, ma anche l'ospedale dei bambini che fanno parte dell'azienda di riferimento nazionale per l'alta specializzazione, che è quella che io dirigo sotto il profilo sanitario, si occupa in materia di prevenzione di intanto osservare tutto quello che sono le normative nazionali di provenienza ministeriale, in materia, ad esempio, di controllo delle infezioni ospedaliere e quindi la gestione delle commissioni due dedicate che sono sotto la vigilanza della direzione medica di presidio, delle due direzioni mediche di presidio. A questo poi, in materia di corrente impegno, possiamo riferirci alla tutela dei pazienti ricoverati, parliamo di diverse centinaia, con picchi che raggiungono 800 ricoverati nella stessa giornata, dalle infezioni di Covid e questo attraverso una sorveglianza che viene operata a tutela della loro permanenza nelle sale, perché siano esattamente nelle sale di direzioni destinate a pazienti non Covid e soprattutto su un'attenta sorveglianza tramite il servizio della medicina competente e degli operatori sanitari. Stiamo facendo quella che si chiama rete, una rete nefrologica, stiamo cercando di organizzarci, è già da un po' che ci lavoriamo, intanto a livello regionale, stiamo cercando di creare una importante rete nefrologica per poter condividere dei percorsi diagnostici e terapeutici comuni e poter quindi aggredire meglio questo tipo di patologia per fare quello di cui abbiamo parlato prima, più prevenzione e quindi rallentare al massimo la progressione del danno renale. Grazie Grazie